Il corso Gestire la complessità, promuovere responsabilità e autonomia nei propri collaboratori offre ai manager strumenti pratici per affrontare il cambiamento continuo, trasformando le resistenze in opportunità di crescita. Tra i punti di forza, insegna come sostenere e guidare i team in un contesto di trasformazione, promuovendo un clima positivo e stimolante, e fornisce un modello di change management efficace per favorire l'adattamento, migliorare la flessibilità e responsabilizzare i collaboratori, riducendo stress e ansia. I partecipanti acquisiscono competenze chiave per creare team più autonomi e resilienti, pronti a cogliere le sfide del futuro. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale, nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.